La zia Enrichetta ha convolato a nozze con un Santini, il povero zio Adolfo, il quale aveva due sorelle, la povera Erminia e la povera Francesca. Erminia è rimasta nubile, Francesca ha convolato a nozze con un certo Rubini e ha avuto tre figli, Ernani, Loingrin e Ofeglia. La povera Ofeglia è morta di parto infelice, Ernani è capo sezione al Ministero dell'Agricoltura e Loingrin è scappato in America. Scappato? Sì, scappato, scappato, dopo averne combinate di tutti i colori, perché bene tu sappia, cara Marianna, che questo tuo cugino era un fiero mascalzone. Oddio, non esageriamo adesso. Sì, guarda, in questo ha proprio ragione Edmondo, era una perfetta canaglia, simpatico, intelligente, piacevolissimo, ma canaglia. Un ozioso, un libertino, un disipatore. Oh, poveretto, e gli piaceva divertirsi? Divertirsi, piace a tutti divertirsi, che diamine, ma con decoro, con moderazione, con dignità. Certo, certo che ne ha conquistate di donne, eh, quello scavezza collo. Sfido, un così bel ragazzo. Bello, bello, un uomo insignificante. No, no, guarda, in questo ha proprio ragione Edmondo. Quei capelli ondulati, meravigliosi. Devi ammettere che tuo cugino era proprio un gran bell'uomo. Senti, fammi il piacere di non chiamarlo mio cugino. A questa parentela non tengo affatto. Capirai, non c'è da esserne orgogliosi. Un avventuriero, indebitato fino agli occhi, cambiali in protesto. E anche, anche qualche cosa di peggio. Che cosa? Ah, io mi auguro che sia una calunnia, ma si dice che si sia fatto anche mantenere dalle donne. Eh, beh, se lo meritava. Senti, Lia, io non so come tu non ti renda conto della sconvenienza di quello che dici. Ma, dopo tutto, che male c'è? Ma voi uomini spendete dei patrimoni per una donna che vi piace. È anche giusto che una donna spenda qualche cosa per avere un uomo, eh? Io, per esempio... Lia! No, no, volevo dire che io per avere te non spenderai nemmeno una lira. Non c'è che dire, sei proprio tanto spiritosa. Scusate, la miei cari, io non so forse l'aria della campagna che l'ha un po' elettrizzata. Già, già, è l'aria. Dunque, torniamo a Longley. Come vi dicevo, mi è arrivata ieri sera una sua lettera perché, disgraziatamente, io sono l'unico di cui conosce l'indirizzo. Scusa, Edmondo, ma tu perché ce l'hai tanto con questo tuo cugino? Io? Ma io non ce l'ho affatto con tuo cugino. Anzi, io mi auguro che in questi anni di assenza sia diventato una persona per bene. Io sicuro che io sarei il primo ad aprirgli le braccia. Quello che è stato è stato, il passato è morto, non sarò certo io a rivangarlo. Tant'è vero che sarei stato lietissimo di averlo mio ospite, ma, disgraziatamente, non posso perché devo partire. Anzi, dobbiamo partire. Anche tu? Già, anch'io. Oh, una malaugurata coincidenza. Proprio stamani ho ricevuto l'invito per un congresso a Berna. Io ho tentato di esimermi, ma non mi è stato possibile. E tu lo accompagni. Con quale piacere te lo puoi immaginare? Un congresso di igiene rurale. Ci sarà da impazzire dal divertimento. E perché ci vai? Ah, domandatelo a lui, un capriccio suo. No, no, no. Non è un capriccio. In questi ultimi tempi Lì ha sofferto di insonnia e di inappetenza. Un cambiamento d'aria le farà bene. Benissimo. È proprio adesso che si inizia la stagione dei bagni. E mi ero fatta un costumino che era una bellezza. Beh, e avrai tempo di metterlo. Ah, sì, al congresso di igiene. Pensa, Marianna. Un paio di pantaloncini bianchi, corti, corti, così. Una magliettina di... Lìa, ti prego. Non siamo venuti qui per parlare dei tuoi pantaloncini. Ma sei insopportabile, vuoi parlare sempre tu? No, cara. Io voglio semplicemente arrivare alla conclusione del mio discorso. Prima decidiamo che cosa si fa per Loengrin. E poi parleremo dei tuoi vestiti e di quello che vorrà. È presto deciso. Noi ce ne andiamo e bisogna che lo spitiate voi. Noi? Vi ripeto, sarei stato lietissimo di farlo io stesso se non ci fosse stato questo malaugurato contrattempo. Ma come? Ma ospitarlo qui? Sì, e voi avete una casa molto grande. Certamente disporrete di qualche camera. Ah, sì, sì. La casa, figurati, la casa è grande, ma non so cosa ne dici tu, Marianna. Ma per me, figurati. Beh, ha scritto che si fermerà solo pochi giorni. Deve proseguire per Parigi e Londra. Sì, va bene. Ma vedi, noi, sai, viviamo una vita molto semplice. Una vita così da campagnoli, quasi. E penso che anche lui si troverebbe a disagio così lontano dalla città. Lontano? Lontano. Dieci minuti di automobile. Li ho controllati io e a duecento metri avete la fermata del filobus che in un quarto d'ora vi porta in centro. Sì, sì, va bene, ma non so, bisognerebbe domandare il parere anche di Giulio. E chi è Giulio? È un mio carissimo amico, il mio socio della cartiera. È padrone anche lui di questa casa? No, 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 padrone no, ma insomma sono tanti anni che vive qui con noi. Non so cosa ne dici tu, Marianna. Ma io per me, sai, figurati, non dico niente. Sai, bisognerebbe preparargli una camera. Che già è questo, come si può? Beh, avete tutto il secondo piano vuoto. Ma sì, camera, figurati, camera, ce ne sono tante. Ma vedi, comincia a dire, in quella più grande ci teniamo le mele. Sai, poi le altre più o meno hanno tutto il pavimento rotto. E beh, ma potete togliere le mele. Sì, vabbè, ma sarà comunque un camerone vuoto e ci vorrebbero dei mobili, ci vorrebbe un letto. Per forza. E come si fa? Marianna, che tu sappia, ci sono dei letti in casa? No, io non lo so, eh. Ah, Cesira, Cesira, ci sono dei letti? Dei letti? Perché fare? Che domanda, per dormire, no? A cosa servono i letti? Sì, ce ne sono due giù in cantina, ma hanno le molle sfondate. Eh, eh, senti, hanno le molle sfondate. E beh, si accomodano. Intanto cominciamo a vedere questa camera delle mele. E con un po' di buona volontà si può rimediare a tutto. Sì, sì, andiamo a vedere la camera delle mele. Le chiavi le hai tu, Cesira? Sì, le ho io. E allora vieni con noi, ti faccio strada. Grazie. Da questa parte. Sei attento agli scalini perché sai che sono... Eh, lo vedo, lo vedo. Vieni con noi, Cesira. Che idea, che idea venirvi a dare tutte queste noie. Oh, beh, figurati. E pensare che noi abbiamo la camera dei forestieri sempre pronta per gli osti. Ah, d'accordo, ma se voi dovete partire... Eh, sì, sì, anche questa è una bella scusa. Io mi domando se si può essere più stupidi di così. Ma scusa, se tuo marito deve andare a Berna per il congresso? Che bene vada. E che bisogno ha di me? Ha paura viaggiare solo? Ma poi che idea di andare a Berna? Non si poteva andare a Sanremo, a Rapallo. E va bene, ma se a Berna c'è il congresso, eh? No, no, che congresso. Ma ci credi quel congresso? Perché non c'è il congresso. Ma sì, sì, ci sarà, non lo so. In Svizzera c'è sempre qualche congresso. Ma figurati se lui si sarebbe scomodato per andarci. Scusa, Lia, ma allora io non capisco. Allora perché questa partenza è improvvisa? Perché? Vuoi sapere perché? Scappiamo. Scappate? Sì, scappiamo perché Edmondo ha paura. Paura? Eh, di chi? Di Loingrin. Lui arriva e noi scappiamo. E finché lui starà qui, noi staremo a Berna ad annoiarci. Ma perché? Che cosa c'è stato Fredmondo e Loingrin? Oh, ma fra loro non c'è stato niente. No, è con me che c'è stato qualcosa. Con te? Eh sì. E già tu non sai niente, sai una storia lontana. Siamo cresciuti insieme. Eravamo ragazzi. Lui era pieno di vita e io cominciavo ad essere carina. Ed estate ci si trovava nella villa dello zio senatore e si giocava. E facevamo il gioco degli sposi. Ah! Ah, ma innocentemente, sai, eravamo quasi bambini. Ah, beh, beh, allora. Poi ci siamo rivisti qualche anno dopo. Lui era diventato un giovanotto e io una signorina. E ci siamo ritrovati nella villa dello zio e così abbiamo giocato ancora. Ah, e allora? E allora mi sono sposata. Con Loengrin? Ma no, con Edmondo. Eh già, con Edmondo, ma lui sapeva... No, no, no. Sospettava vagamente, ma sai, era tanto innamorato. Ah, adesso capisco perché. Senti, Loengrin l'hai più rivisto? Sì. Due anni dopo che mi ero sposata, un'estate, ci siamo ritrovati nella villa dello zio. Edmondo l'ha saputo? No, sospettava vagamente, ma poi quando Loengrin è andato in America ha trovato delle lettere. Oh, mamma mia, cosa ha fatto? Una tragedia. Beh, lo sai, è sempre esagerato lui. Ma poi, siccome era cosa passata, mi ha perdonata. Ma adesso che sa che Loengrin torna, lui scappa. Eh, grazie, ma non ha mica tutti i torti? No. Ha ragione, ha ragione, poveraccio. Tanto più che se lo rivedessi. Cosa? Eh, cara mia, bisogna sapere che uomo è quello. Non gli si può dire di no. Ma perché cos'è tanto bello? Bello? Non si può dire che sia bello. È qualcosa di più che bello. Eh, beh, adesso non esagerare, ma là c'era un bel uomo. No, no, guarda, è inutile, non te lo puoi immaginare, no. Alto, snello, e poi un modo di parlare, un modo di guardarti. Ah, abbiamo trovato modo di sistemarlo. Dio Dio, come ti sei ridotto. Ma niente, niente, è un poco di polvere. Beh, e adesso possiamo vedere per il letto? Sì, 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 se vuoi venire in campina, da questa parte. Cesira, prendi una candela, vieni a farci luce. Abbiate pazienza ancora un momento. Ah, Marianna. Eh? Ma lo sai? Cosa? Le mele. Beh? Sono tutte marcite. E io cosa ci posso fare se sono marcita? Cesira! E vieni, se no, per me le mele. Povero Loingri. Lui così elegante, raffinato, in uno stanzone polveroso con le mele fradice e il letto sgancherà. Beh, cosa vuoi? Bisognerà che si adatti qui? E poi, e poi relegato qui in campagna, lui. Lui che non può vivere se non si vede vicino delle belle donne. Già. Scusami. No, io volevo dire delle donne eleganti, delle donne... Beh, insomma, tu mi capisci, no? Ah, sì, capisco. Tu sei carina, sei simpatica. Io non dico che tu non possa piacere, no, 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 anzi. C'è mio marito che ti cita sempre, ad esempio. Guarda, Marianna, lei sì che è una brava moglie, così semplice, così modesta. Se ne sta sempre in campagna, senta tanti grilli per la testa. A proposito, è molto tempo che dura. Che cosa? La tua relazione con Giulio, il socio di tuo marito. La mia relazione con... Che relazione? Se c'è un uomo che non posso soffrire, è proprio lui. Ma come? Non è il tuo amico. Ma nemmeno per sogno. Del resto anche lui non mi può soffrire. Dice sempre mio marito che il più grande sbaglio della sua vita è stato quello di sposarmi. Figurasi. Ma da quanto tempo vive con voi? Da quattro anni, sai da quando hanno preso la cartiera, perché hanno messo insieme i capitali. E non è il tuo amico. Ma ti dico di no. Io non capisco come ti possa essere venuta in mente un'idea così valorda. No, scusa, Mariana, scusa, ma... Ma tu sei sempre stata fedele a tuo marito. Io sì, sempre. Perché? In tanti anni non l'hai mai tradito. Io no, perché dovevo tradirlo. Oh, ma... Ma allora come fai a vivere tutto l'anno in questa bicocca? Ma io capisco la poesia della campagna per un giorno, due ore. Sì, insomma, una gita. Ma viverci che noia. Cosa vuoi, oramai ci siamo abituati. Sai, da principio andavamo spesso in città, ma poi abbiamo venduto la macchina. E ti rassegni a vivere qui tutto l'anno? Ma non è che io mi rassegno, ci sto benone. Ma non mi va di muovermi. Poi cosa andrei a fare in città? Non conosco nessuno, non ho vestiti. Ma fateli vestiti, santo Dio. Muoviti, vivi. Ma come fai a fossilizzarti qui fra le vacche, le pecore e i contadini? Ma non hai desiderio di vedere un po' di gente, di andare al cinema, di ballare? Ah, ma forse è tuo marito che non vuole. Ma non nemmeno per sogno, anche lui me lo dice tante volte. Ma cosa vuoi, ormai ho perso l'abitudine. Una sera. Siamo andati a teatro, non ti dico, guarda, una noia. Ci siamo addormentati tutti e due. Ma allora, si può sapere che cosa fai tutto il giorno? Cosa faccio? Niente. Mi alzo tardi, vado a letto presto. No, no, ti occupi molto della casa. Io, ma che, ma che della casa si occupa Cesira? E tuo marito? Ha molto da fare? Non ha niente da fare. E la cartiera? Oh, ci pensa Ravellini il direttore, è molto bravo. E poi una persona onesta. Ma durante il giorno, che cosa fate? E niente, ti dico. Siamo qui di solito, non so, facciamo qualche partitina, il 3-7 col morto, la battaglia nadale. Ah, il gioco di indovinare i nomi, lo conosci? Ah, è un gioco divertentissimo. Uno pensa il nome di un personaggio illustre, no, e l'altro lo deve indovinare con 12 domande. Dunque, per esempio, io... Mariana, ma quanti anni hai? Quanti anni ho? 34, perché? Ma tu ne hai 70, ma com'è possibile a 34 anni vivere così? La battaglia navale, il gioco dei nomi. Ma perché? Ma che male c'è? Poi e poi quel fazzoletto in testa, quel vestito. Ma ti sei guardata nello specchio? Io sì, perché? Che cosa ho? Che cosa hai? Hai che... Scusami se te lo dico, ma sembri una serva. Una serva? Eh sì, sì, ma di quelle giù giù, perché la mia, la mia si fa la permanente, porta le calze di Christian Dior. Tu invece, scommetto, hai le calze di filo, fammi vedere. Vedi? L'avrai giurato. Ma come si fa a lasciarsi andare così, sciupare gli anni più belli della vita? Cosa vuoi, oramai? Ma niente fatto, bisogna reagire. C'è tutto da cambiare in te, dalla punta dei capelli alla punta delle scarpe. A cominciare dal nome. Mariana. Un nome impossibile. Io non potrei chiamarmi così nemmeno per cinque minuti. Ma cosa vuoi che ci faccia? Me l'hanno dato, devo tenermelo, no? E beh, cambialo. I genitori ci appioppano dei nomi impossibili e noi dovremmo tenerceli per tutta la vita. Ma neanche per sogno ci mancherebbe altro. Lo sai come mi chiamo io? Tu sei fortunata, hai un bel nome. Ma niente fatto, io un nome impossibile. Io mi chiamo... Non lo dire a nessuno. Io mi chiamo... Ersilia. Ersilia. E guarda che Ersilia vale Mariana. Beh, io ne ho levato la metà ed è rimasto Lia. Un nome carino, simpatico. Già. Eh, potrei fare così anch'io. Potrei lasciare Maria. Pure Anna. Ma che sono due nomi comuni tutti e due. No, 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 aspetta, aspetta. Tu puoi fare, vediamo un po' Marianna... Anna Maria! Un bel nome elegante, romantico. Marianna, la serva. Anna Maria, la padrona. Anna Maria. Sì, 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 è bello. Mi piace. E cosa ne dici? Anna Maria. Sì, sì, mi piace. Anna Maria Martelli. Sì, sì, è bello. Può venire un paio d'uomini dalla cartiera? Ma sì, il letto basta farlo accomodare e andrà benissimo. E allora che cosa avete deciso? Tutto sistemato. Avrà una magnifica camera spaziosa, piena di sole. Io credo che qui Loingreen si troverà benissimo. Io credo invece che non ci resterà nemmeno un'ora. Ebbene, se non vorrà restare tanto...